La società che cambia è il magistrato. E in piena, totale indipendenza da ogni centro di potere, politico e mafioso. L'indipendenza del giudice, infatti, non è solo nella propria coscienza, nella libertà morale e nella fedeltà ai principi, ma anche nella trasparenza della sua condotta, anche fuori del suo ufficio, nella libertà e nella normalità delle sue relazioni, nella sua indisponibilità a iniziative e affari, nella scelta dell'amicizia. Pertanto è da rigettare l'affermazione secondo la quale, una volta adempiuti con coscienza e scrupolo i propri doveri professionali, Il giudice deve offrire di se stesso l'immagine di una persona seria, equilibrata, responsabile, l'immagine di un uomo capace di condannare, ma anche di capire. Solo così, egli potrà essere accettato dalla società. Questo, e solo questo è il giudice di ogni tempo. Se apparirà sempre libero e indipendente, si mostrerà degno della sua funzione. Se si manterrà integro e imparziale, non tradirà mai il suo mandato. Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita, dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante piglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in bacio ogni pallottola nell'aria, ogni cadavera in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra. La libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano non solo musica, non solo musica. La testa si gira che è giusta, la mira ragiona, a volte condanna, a volte perdona, semplicemente pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, non lo pensare, pensa che puoi decidere. Tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli, come parole e verbole intatte, reali, come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere. Tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato, nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Sai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere. Tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Pensa, pensa, pensa che puoi decidere. Tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani.